Guarda dove sono? Aspetta Guarda sulla scritta Mindflex Ciao Ciao a tutti ragazzi io sono Suri e benvenuti in questo nuovo video Siamo in compagnia di Lore Schaeffer Ciao a tutti ragazzi Siamo qui per fare dei minigame Abbiamo deciso di giocare nella Mindflex Stiamo annoiando un po' quindi Giochiamo un po' intanto online E' sempre divertente E registriamo anche dato che siamo qua Ok 40 secondi e partiamo con questo minigioco Il primo minigioco l'ho scelto io Facciamo Snake mi piace tanto E il secondo minigioco lo sceglierà Lore Oh yes Quindi aspettiamo questi 30 secondi e si parte Io ho le TNT No no Cosa è successo? Ho fatto return to up Sì anche io Vabbè fa niente rientriamo Guarda dove sono? Aspetta Guarda sulla scritta Mindflex Ciao Come hai fatto? Andalster 5 Ok ragazzi Io sono baccato Si parte F5 subito 5 Non mi va ne... Ok ok si parte Pecora verde Magone Eh no non è possibile Sono già morto Non ci credo No dobbiamo fare un altro Per forza qua Sono andato dritto contro l'albero È d'obbligo Eh io sto laggando Vai vediamo Lore dall'alto intanto Non so mai durato così tanto Facciamo l'idea TomTom Siete in 3 In 4 Ok via Vai all'esterno contro il muro Eh vabbè Eh te la ho portato Ah due che si stanno... Ok uno è morto Ma io sto laggando la grande Siete in 3 Bene Sto laggando No siete in 2 Siete in 2 Oddio Non so mai È solo per vincere Mi sa No No Quasi E vediamo che Eccolo L'hai quasi chiuso Vediamo che vince Ai Vediamo Vediamo No Sta chiudendo eh Ok Vero laggare tantissimo Voi io Eh anch'io Eccolo Eccolo Lo scontro Eh vabbè Secondo Eh mazzo Sei andata bene Un po' meno per me Ecco un po' meno per me Però vabbè Aspettiamo Facciamo questa E poi ne facciamo un'altra Dai C'è qualche altro gioco Sì ne facciamo un'altra Che devo recuperare Sono morto subito Eh si è 3 2 1 1 Via Mi parte Speriamo di F5 Scacchiera Siamo in una scacchiera Mamma Speriamo di durare un po' di più Ok Spero di durare altrettanto No lag lag Incredibile lag 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 Ok Sono dietro eh Non so come lo schifo Meglio girarmi Oddio Sì ne ho ucciso uno Sì ne ho ucciso uno Ne ho ucciso uno Laggando Io non lo so Un altro Preferisco salvarmi Mi sa che ne ho ucciso Non lo so ne ho ucciso solo uno No ne ho ucciso due E intanto lag Oddio Oddio Vediamo se riesco a passare No per un piano non mi hai ucciso te Scusami se lo fa No va bene va bene va bene Ma lag ha troppo No sono morto con lag incredibile Andiamo Io sono Miracolamente Pecora Viola Eccola qua No 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 L'ho visto scontrarsi ma tipo lag ha troppo Va bene noi possiamo uscire Esatto Nel prossimo minigame Siamo qui nel block hunt Si inizia Ok Si inizia Iniziamo Andiamo subito a camperare in qualche posto Gallina gallina Ok Ok sono una gallina Io sto già un bel posto Io sono già nascosto Intanto vedo incudini e vasi che scappano Ah ok Ok siamo partiti Ok Di Hunter 7 E io sono camperato Ma non ho l'arc qua Eccolo Eccolo qua l'arc Non ti vedono se hai in mano l'arc loro No Si uccidi e muoiono e basta Si muoiono Però ti danno anche l'ascia di pietra Poi di ferro e di diamante Che ti permette di scappare Più velocemente e fa più danno Eccolo qua Uno sta arrivando Oddio Ho colpito Ti ha colpito tutti Ho colpito Sei la gallina te Si Colpito la super axe Ma è anche scemo con l'hunter di Ti aiuto anch'io va Si fa colpito tranquillo Io sono qua dietro Una TNT Ti vedo Aspetta Dai che sto colpendo con l'arco anch'io Preso E vai Grande Prima uccisione L'ha ucciso te No Ancora vivo Ne vedo uno là Ma è dietro Non posso beccare C'è un pollo che sta salendo Intanto sto cercando di fare da cecchino con uno Sulla pallina In acqua in acqua Prendilo Ne ho uno davanti Ma Vediamo se mi becca Oddio ce l'ho sopra di me Sto cercando di colpire tutto Preso Lascia di ferro Sì Vediamo questo Preso Che è dietro Preso Lezzo Lo ce l'ho di pietra io Eh io ce l'ho di ferro No mi ha preso Mi ha preso Mi ha preso Mancato Dai vieni qua Oddio sta fatendo esplodere tutto con la TNT1 Oddio 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 Mancato Liscio Andiamo Colpiamo quello là Sto guardando Vengono 3 minuti e 7 Non mi becco Io sto ancora campionando al punto iniziale Sto colpire uno con l'arco Siamo in 3 in 4 in questa zona Tutti che stiamo cercando di colpirlo con l'arco Dove non capisco chi è Aia Aia C'è Deve recuperare No mi ha ucciso No non ci credo Ti ho ucciso Si Lo ce l'ho mai Spiro Con l'arco Ma Io vorrei uscire a picchiarlo ma Non sono abbastanza potente E' un po' che è arrivato Sto laggando Ok Lo lascia in ferro No mi ha colpito No 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 Un cuore Un cuore No 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 Oddio Muori 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 Ne ho ucciso uno No mi ha ucciso No Ero diventato un maiale per scappare ma mi ha ucciso Vuole uccidarti io Ah siamo hunter adesso ok Andiamo alla ricerca dei nasconditori Andiamo 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 Due minuti Qua ce n'era qualcuno Qualche maiale forse Vai vai buca buca Ma c'è il pvp attivo Ah no no L'hava colpito qualcuno Allora C'era uno vicino a me Che veniva colpito Vediamo se Becco qualcuno Ah Adio Lag lag Nessun melone Vediamo se C'è qualche Ok La torta non penso Quasi quella tanta TNT Forse tra questa Ehm Qua no Ok qua non c'è Eccolo qua eccolo qua Beccato uno Grande Quanti ne mancano? 8 Ciao Non ce la faremo mai Sta scappando troppo velocemente No Non era lui Eccolo qua eccolo qua Eccolo qua Ucciso Grande Però l'ha ucciso lui Un altro Io uno l'ho ucciso E mancano 5 Eccone uno Eccone uno Eccone uno Ce l'ho Ce l'ho L'ho visto L'ho visto Mi sto dietro Ma Provo a premere E Vedo io solo l'omino buggato Che sta morendo Un attimo No Non riesco Ne sto inseguendo uno Vedo un polo che corre Eccolo E' lui E' lui E' ucciso Ok Qua non c'è niente Tra le librerie L'ho perso 25 secondi Non ce la faremo mai Sono esploso con la mia stessa TNT Mettiamo una TNT Su questa TNT No La librerie Ultima possibilità 9 8 No Non c'è qua Un pollo Nascosto tra le foglie Non è 1 0 E' l'ultimo Hider è rimasto Uno Non è rimasto Cavolo Ma sempre così Un Hider Ha fatto vincere gli Hider Vabbè E vabbè Si parla kill Ed eccoci qua di nuovo ragazzi Nella hub Del server E direi di finire qui Questo episodio qua Abbiamo fatto dei minigiochi Non siamo arrivati i primi Ma L'oro è arrivato il secondo Nel gioco delle Delle Sheep Dello Snake E Oh yes Abbiamo Giocato bene A quello degli Hunter Anche se abbiamo Perso Vabbè anche lì Consigliateci anche Altri giochi che volete Che facciamo O anche altri server Se ne avete qualcuno Ci riprendiamo in un prossimo video Ciao a tutti Ciao Hola Chi Ciao 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 Ciao